Amici, quindi undicesimo mondo, giusto? Sì, decimo fatto, undici e poi dodici. Andiamo dai pompieri. Non so bene, che dobbiamo fare? Qua ci sarà scritto il ragazzo che è malato per fuoco. Il pompiere con ambizioni eroiche. C'erano alcune note di questo tema che sembravano essere uscite da parte della colonna sonora di Ghostbusters, ma... Ma è terribile. Passa e par dopo. Molto bello. Molto comodo, carino. Non sono felice. Spero in qualcosa che magari potesse aiutarmi a muovermi, tipo. Magari qualcosa per i salti. Leperodzer. Leperodzer. Ah, tra leperodzer e bulldozer. C'è un cazzo qui sotto, eh? Benissimo. salti? Salti? Salti. Che belli i costumi che saltano. Vabbè, con questo costume tecnicamente la chiave non dovrebbe... E vabbè, però... Ecco, questa parte... Alcune note dei Ghostbusters. Alcune note dei Ghostbusters. Ok. Dai. Sperando non si allunga a sette mosse. Deó, è stata tonata. Niente. Ovviamente non è andato a finire bene. Quindi... No, vabbè ti prego. Devo anche tornare indietro a prenderlo. Ah 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 Ce la facciamo? Bene, possiamo andare avanti. Così... Bravissimo! Non devo fare nient'altro che spostare questo. Così... Certo. Assolutamente sì. Sto incasinando ogni cosa possibile e immaginabile. Però va bene. Dai! Questa mosso è di una lentezza disorbitante. Cos'è successo? Non si muoveva? Non si stava muovendo? No, via. Gentile. Ok. Ok. A quanto pare Telegram mi ha speso nonostante l'avvi si spento. Più di Telegram. Bene. Tu sei? Ok. Io devo per forza volare con lui. No. Allora c'è un problema effettivo eh. Perché è lentissimo. E non posso muovermi in... in qualche direzione volando. No. Posso andare solo dritto. C'è. Io non so come... come altro descrivere queste... geniali idee di... non lo so. Non so però qualche dubbio sull'intelligenza umana mi comincio a venire perché... è che a un certo punto cazzo... beh... parcatelo io. parcatelo io. Sembra fatto veramente apposta. A un certo punto sembra veramente fatto apposta. Dai. Ok. Alta statuina. Aspettiamo qui. Anzi no. Ok. Io ci provo. Sì sì aspetta un attimo che è... Ok. che avevo. Vai. Ok. Uno è andato. Poi. colpa mia. Ripendono da qui le nostre avventure. Ripendono da qui. Comprò un altro costume. Gentilissimo. Prova solo a morire dell'ultima cosa che fai. Ok. No giuro. Non fatemi utilizzare l'astronauta per più di tre secondi. Ok. No. Ok. Ecco in giù Boh mistero, mistero misterioso, qual'è il piano qui? Vabbè, eh, io non posso fare niente, non è che avessi chissà quanta voce in capitolo, eh. Sulla cosa, devo pure ritornare indietro, pensa, non ho parole, non ho veramente parole, oh ti ho colpito. Allora... Piano. No, vedi, ma non c'è niente qui. Non è che qui sta messo da qualche parte, no, zero, devi per forza superare questa puttanata, per forza, fanculo. Ci metterò un'eternità, perché... perché è così. Questa cosa si sposta, ok. Ok. Non ne sono... felice. via, vaffanculo. Sì, ma... c'è solo questo power-up poi, gli altri si sono... smaterializzati tutti. Ahhhh... dai. Andiamo ad un altro. No. Vabbè, c'è una chiave qui. No. Ti prego. Togli, ti tagli. Ok, grazie. Prendo un altro per precauzione. Si sa mai. Ohè. Di qua. Non percepite proprio le emozioni. No. Chissà perché. Che culo. Meno male che ne ho preso un altro. Sì, ma io... non mi serve quello... con un salto normale non ci arrivo. Lì anche è pieno di roba... no. Ah, l'ho salito solo con il campanone. No, lo so, amici. Via. Salta. Salta. Dai. Leviamoci dal cazzo questo livello di merda. Questo mondo di merda. Poi manca soltanto il mondo 12 e non so a cosa serve il treno. Perché tecnicamente al mondo 12 il gioco dovrebbe finire. Tecnicamente. Poi. Se riuscire davvero non lo so. Però. Ah, io vado lì? Gentile. Allora. Sai cosa? Io... Un costumi... Non me lo prendo. Quanto dovrei avere un paio di quelli che intendo io. Esatto. Io avevo premuto X. Però ok. Sapevi? No. Merda. Però non posso saltar. Ho buttato due costumi. Bellissimo. Pensavo che ci arrivasse. non ho una chiave. Non ho una chiave. Non c'è una chiave. Diverso. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Dimmi tu se devo fare tutto questo potuto casino. Per un costume che se non salta... Mmm. E' completamente inutile. Non salta. Non salta. Ah, aspetta. Ok. Sì. Via. Te la fai, cazzo. Cristo Dio. Io avevo premuto X. Avevo premuto X. No. Vaffanculo. Ora sono indietro a prendere la statua. La statua. La statuina. Ma ci rinuncio. like. Ma mamma. Be' premuto X. Mi domani. no non ci arriva in nessuna maniera è inutile questo finisce sul podio della flop perché sta proprio facendo però è solo mentale la gara contro Redfall però siamo lì lì siamo veramente lì come il peggio gioco giocato quest'anno perché porca di quella puttana io non ho fatto niente dio cristo devo aspettare bello eh è proprio un bel gioco comodo pratico immediato divertente soprattutto non è ancora spawnata l'alta chiave io non posso fare nulla ho pieni coglioni se non grazie via non ci provare qual è il piano cosa dovrei mai fare io non lo so ok è una totale incognita non lo so non lo so proprio prendo questo e poi poi non posso fare niente perché implementare due azioni richiedeva troppo impegno sì ma vabbè ti prego non puoi salire su ciò che tu hai creato cazzo cioè no io capisco tutto no questo gioco ho fatica a capirlo via che vuol dire quel 3 che cazzo vuol dire ah dovremmo sconfiggere tutti i nemici via 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 solo questo niente non mi darà mai più un altro power up basta voglio giocare a Mario dove sono i platform fatti bene ridatevi cazzo anche sto per lucky stale cristo dio qualsiasi altra cosa tendere questo aborto dio santo no non è sa capisci che non non può essere più comoda la forma base che alcuni potenziamenti andiamo via andiamo via prima che mi incazzi veramente lì su come ci dove mai arrivare no sono un po forse col brazzo capisci che questa non è una stazione che io posso fare così meno male guarda meno male almeno salto ma un culo dimmi tu cazzo se devo arrivare a sperare di movire per perdere i potenziamenti dimmi tu fanculo via cos'è quest'altro manco questo salta questo fa le scale quando questo forse salta no no ma che cazzo lì le 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 lì 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 Quindi continuiamo a usare La scala Lì c'è qualcosa Allora Ah fan del calcio Dai Non vedo l'ora Ok Vedi Oh no Vabbè Ma io avevo premuto Ok L'importante è buttare giù questi No Ho fatto una strage Va bene Va benissimo Non potevi lasciarmi Senza nulla Ma che cazzo C'è Non Cristo Ma io non posso fare nulla Devo aspettare E vi è cominci No Allora invece si Ha funzionato Mai lo avevi detto Mai Ciao ciao No Ma la telecamera Via 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 Ok Ti Ti devo dimmi che è la fine del livello No 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 Non posso affrontarlo Perdonami Ma Con questo power up Cosa vuoi che faccia Curiosità Che Per sapere Perché, porca puttana Si, si, spara Uno, due, tre Tu provi a morire E lo giuro è l'ultima Cosa che fai? Giustamente, perché se vuoi Mi ho preso uno Una statuetta Gesù Questo è uno dei livelli peggiori Mai stati ideati nella storia dei platform A livello globale Perché È disgustoso Lo taglio direttamente Ce l'ho fatta Ne ho cercato uno Dai Oh, il primo e l'ultimo Con quelli in mezzo non mi hanno No No, dove ero sto No, no Non lo so Non so come altro si può descrivere L'odio nel mondo Se non così Ho bisogno di questi Devo prendere due statuini in più Devo Via Va bene Ci vediamo al boss Dai Quindi Quindi Vediamo un po' il boss Adesso Mi ha preso due Non è proprio Volevi giù a mille In Italia Devo di parla Non è proprio Bene, guardatemi un attimo. E eccomi. Quindi... Oh, si sono riusciti conto che forse saltare serve? Colpa mia. No, ho sbagliato. Ok. Merda, volevo fare una cosa. Eh, credo di dover fare quella cosa dall'alto. Ok. Ok. Bene. Via. Uno è andato. Ok. Merda, qual è la mia chance? Vabbè. Non lo rifai mai, va? Ok. Ok. Cazzo. Che culo. Andiamo a se lo... No. Allora, aspetta. Vedo te cosa succede. Non faccio niente. Ho bisogno di statuini, amici. Ho bisogno di statuini. No, no. Ok. Va bene. Ah, non lo fa più. Cioè, quindi io praticamente ne perdo una volta. O ho perso per sempre. Cioè... Dio mio. Ah. Via. ma qui non potevo io fai nulla o se non con questo costume ok no ok oh gesù via via 1 2 3 no beh ti prego vaffanculo niente aspetta ma non ci arriva allora ho trovato i vari attacchi proprio uno non ho il costume adatto è dall'altra parte del globo terra quello cazzo dai christo vaffanculo dai non ci verrà mai non ci verrà mai fanculo via vabbè ora vi sorvete il balletto 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 Vediamo come ha risolto la situazione il nostro San Corato. Bene, questo sia l'appartamento. Poi, non è l'appartamento.